A voi all'Alghe TG Express, aumenta perché c'è sfesta lo svolto e l'Alghe Linate. Continuità territoriale, Careddu a Bruxelles. Ciutati creativi su Unesco, a voi le disegnazioni ufficiali, l'ex presidente Catara e San Belgio. Baseball, Tigre, Alghero, Guanyan, la Coppa Saldegna, Under 12. La tua storia è unica, come te. Raccontala con i nuovi vasetti Nutella. Milioni di combinazioni diverse per parlare di te. Nutella, come te non c'è nessuno. Buon dia e ben trovati all'Alghe TG Express, l'appuntamento quotidiano all'informazione dell'Alghero Channel. Saluti i nostri amici catalansi. La ruota in continuità territoriale, l'Alghe Linate, a partire dal ponte di Tau Sanza, sta a potenziare. Mentre i collegamenti per Roma, sono operativi 3 vols. L'Ara 7 del Maiti, a mesdi è 45 e a 7.20 di Ratalda. Per i giorni di fine settimana che vi, avendo manato le compagnie di aumentare nuovi vols per garantire il diritto alla mobilità per tutti i saldi. Asci, ha detto l'assessore regionale del TASPOLS, Carlo Carido. Alla fine settimana che vi, è previsto un nuovo incontro a Bruxelles. Amare a direzione generale con patenza della Commissione Europea. Asci, lo titolare del TASPOLS, che ha detto che l'obiettivo sia quello di arrivare alla condivisione di un percorso. Senza rannunciare al necessario rafforzamento del salviso, penso di essere le esigenze specifiche della Sardegna. A voi, il direttore generale dell'UNESCO, Irina Bokova, annuncierà la disegnazione ufficiale delle risultate creative dell'UNESCO. Alla fine di un processo per la valutazione a cura di una commissione indipendente da esperti, sono solo le città italiane che chiedono di fare parte delle città creative dell'UNESCO. Alghè Carrara per l'artigianato e l'arte popolare, Alba per la gastronomia, Genova e Pesaro per la musica, Milano per la letteratura. Il procuratore generale spagnolo, Mazzar, ha domandato l'incriminazione del presidente català Pijimont e dei ministri per la ribellione. L'ex presidente català si trova a Bruxelles a massicurati i consiglieri, insieme a cui si vuole domandare l'asile politico al Belgio. Mazzar ha annunciato la presentazione di una richiesta di incriminazione davanti al Tribunale Supremo per i mateix reati. També della presidenta del Parlamento català, Carmen Forcandel, e dei membri dell'ufficio della presidenza. Lui procurerà non da mani arresti preventivi, ma aguarderà che i accusati siano inattesi del giugno per decidere da molti possibili misure a scautellarsi. Aradone in veola a regia e le guti un'ima diretta. Il pane di tutti i giorni, cotto anche col forno a legna. Farinelli fresco market. Baseball. Tigri Valdent, l'Alghe, dell'Underdoza. Guagnano per 7 assist nella finale della Coppa Saldegna del Baseball contro l'Ukuba Sarda. La squadra composta di atletas prevalentemente del Cagliari del Quarto Sant'Elena. La prestigiosa gara organizzata del Comitato Regionale della Federazione ha visti prevalda lo smegnozio del tecnico cubano Orlando Quirantes, che ha guagnato anche contro lo Yellow Team per 13 a 0 e lo Cagliari Baseball per 12 a 2. La curiosità ti dà a voi. E' legge del libro di Angelino Scala, il libro Mignons, lo scampionzi della parassa, della carra e della maderenetta. A Stevenino decisto Vantal, l'Angelino decisto Pelle de Cain, erano lo smegnozio dei campionzi dei figà, dei tozzi di stanz che avevano conosciuto la ghia, riascivano a trovare la figa, tambè che fossi di Invel. Lo smegnozio del Cistu Capita, erano campionzi di mandronia, per il Parisio Sanso e la stazasci. Angelino decisto Gribu Gribu, campion di Vira per giocare, a Vira proprio campion eterno, per giocare alla moneda, alla pizza, e la campion. I figheri ha specializzato. Per qualsiasi volta in erasione fu una sua pregunta, vi sono contatti alla pagina di Facebook e di Algero Channel. Ora la spredizione del terzo per la ma, a voi ora. La spredizione del terzo per la ma, e la spredizione del terzo per la ma, a voi ora. Grazie a tutti